Il Consiglio regionale della Calabria ha preso atto dell'incompatibilità dei consiglieri Vandaferro e Francesco Cannizzaro, entrambi eletti alla Camera dei Deputati alle ultime elezioni politiche. Cannizzaro ha annunciato nel corso della riunione di ieri le dimissioni, mentre Ferro, assente, le formalizzerà nei prossimi giorni. Invece è sdrittata la tanto attesa discussione su Calabria Verde, chiesta a gran voce dal consigliere Carlo Guccione. Il suo ordine del giorno, con il quale chiedeva un'informativa in aula da parte di Oliverio, sarà calendarizzato nelle prossime sedute dell'Assemblea. Guccione ha invocato il report del governatore, alla luce delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'azienda Calabria Verde e i vertici politici e istituzionali del governo regionale. Spazio infine per la questione legata alla tutela dell'olio calabrese, sollevata attraverso un'altra mozione che ha avuto Disco Verde dall'Aula da Gianluca Gallo, che dà mandato alla Giunta di adottare tutte le iniziative opportune necessarie a favorire anche nel confronto col governo e la Commissione UE la tutela dell'olio calabrese, considerato prodotto di eccellenza, valutando la possibilità di introdurre misure compensative in favore dei produttori.